L'idea è di Nicola degli Benedetti che ha approfittato di questo autunno splendido per organizzare un'escursione in collina. Noi ringraziamo il gruppo degli amatori podisti, dei tapascioni, è stata un'iniziativa originale nel suo genere e poi anche un momento di riflessione sul valore della bellezza e dell'estetica del nostro paesaggio. Vedo quotidianamente persone, personalità, atleti che si allenano all'interno di circuiti urbani e anche questa possibilità di far capire che invece le nostre comunità sono molto più vicine e accessibili con un percorso domenicale podisti che è stata una bellissima idea. Noi abbiamo accolto insieme a Don Nicola questa iniziativa con molto favore e molto simpatia. Qual è lo scopo del vostro gruppo e poi della corsa che avete organizzato? Il nostro scopo è quello di correre insieme e di divertirci. La nostra filosofia di vita è quella di correre per vivere, cioè divertirsi consapevoli che il movimento, l'attività fisica fa bene per prevenire le malattie. Le malattie soprattutto cardiovascolari sono quelle più diffuse e quelle più frequenti, come l'infarto, l'ictus cerebrale e le malattie anche degenerative. Abbiamo cominciato da poche settimane. All'inizio eravamo un gruppo di audaci sparuti, adesso siamo cresciuti moltissimo e siamo arrivati a circa 30 atleti. Ecco.